Renzi proprio in queste ore ha detto bisogna avere il numero chiuso, aiutiamoli a casa loro, ricorda qualcosina? Sì, Renzi è un disperato, non sa più che cosa fare, che cosa dire per garantirsi un minimo consenso a livello popolare e quindi sta inseguendo le nostre idee, le nostre idee, i nostri pensieri che da sempre sono quelli di dire che queste persone vanno aiutate, se veramente ne hanno bisogno, a casa loro. Ovviamente quando lo diciamo noi siamo dei razzisti, mentre quando lo dice Macron, lo dice la Merkel, oppure lo dice Renzi, sono questioni solamente di buonsenso, quindi alla fine vengono tutti sulla nostra linea. Si è superato ogni limite, si è superato anche il limite della sopportazione, cioè stiamo parlando di numeri impressionanti, di milioni e milioni di euro che vengono spesi per il mantenimento di queste persone che poi non fanno altro che girare per le nostre città e la cosa più vergognosa è che questi milioni sono nelle mani di pochissime cooperative che si stanno ovviamente spartendo queste migliaia e migliaia di euro. una vergogna ovviamente che accade solamente in Italia perché come abbiamo visto da altre parti d'Europa tutto questo non succede.